Salve a tutti ragazzi, io sono Marucco e benvenuti in un nuovo video sul canale. Oggi per voi è il 16 maggio, ma per me, che sto pre-registrando tutti i video di questa settimana, è solo l'11. Ma ormai manca davvero poco al replay di giugno che quest'anno potrebbe rivelarci non poche sorprese. E dico così perché la polemica delle settimane scorse è ormai un ricordo. È stato il SimGuruGram a rassicurare la community dicendo che non solo The Sims 4 non è morto, ma che rimane il vero successo del brand e che ci saranno tanti contenuti in futuro. Quindi nulla di cui preoccuparsi, anche se i più scettici potrebbero giustamente dire che sono solo parole e frasi di circostanza per calmare la community, quindi niente di serio. E invece ragazzi l'Eletronic Arts ha rincarato la dose e come se l'ha fatto. Il CEO Andrew Wilson ha dichiarato, riferendosi all'ultimo trimestre dell'anno, ovvero ottobre-dicembre, la seguente frase We have a great deal more content coming to our PC player this year. E io aggiungo shish tanto per darmi un tono. Tradotto vuol dire che quest'anno i giocatori di The Sims 4 PC avranno molti, e sottolineo, molti più contenuti. E ora ragazzi vi chiedo un attimo di serietà. Chiedo il vostro supporto per questo momento difficile. Non tanto per me, ma per lui che affronterà un 2018 da dimenticare. Stringiamoci tutti in silenzio e scriviamo nei commenti hashtag PrayForPortafoglio. Scherzi a parte, non credo che ci si riferisca solo a questi tre mesi, ma anzi, credo che da giugno in poi saremo investiti da tanti DLC. E questo in realtà è il vero spirito di The Sims. La dinamica che l'ha reso famoso, un po' come avere un menù del ristorante e scegliere le pietanze. Te che stai guardando questo video potresti scrivere nei commenti. Io ho comprato l'espansione a lavoro, avventura nella giungla e lo staff pack di Halloween. Oppure, io ho solo comprato le espansioni, o ancora solo il game pack. Il bello di The Sims è che abbiamo un gioco base, incompleto, e tutto attorno si sviluppano i DLC che ci fanno scegliere cosa vogliamo. Non è assolutamente obbligatorio comprarli tutti, ma anzi, possiamo scegliere come sviluppare le nostre partite. Quindi mi aspetto una vera bomba a giugno. Un trailer che probabilmente svelerà più di un'espansione in arrivo. E questa frase è risposta a tutte le domande che ci stavamo facendo. The Sims 4 è morto? Assolutamente no. È stato messo da parte a favore del mobile? No. Ma anzi, ora il silenzio degli ultimi due mesi assume un senso. Da una parte è naturale sponsorizzare un nuovo prodotto, quindi può essere stata una mossa di marketing, per pubblicizzare The Sims Mobile, che giustamente fa parte del team di The Sims. E quindi meritava attenzione al lancio. Che che se ne dica sta comunque avendo successo. Dall'altra parte potrebbe anche essere che alcuni DLC fossero incompleti, o che non avessero ancora deciso se pubblicarli. Quindi un trailer con tre DLC e poi si decide di pubblicarne, che so, cinque, sarebbe stato strano. Quindi prendere tempo per decidere è assolutamente normale. E se da una parte questa frase, che non è un rumors, tengo a precisarle un dato di fatto, mi ha piacevolmente sorpreso, dall'altra non ho potuto fare a meno di pensare a dei motivi. Sviluppare più contenuti ha che scopo? Potremmo avere più espansioni quest'anno o più gamepack. Non credo ci si riferisca a Staff Pack, che non mancheranno, eh, fidatevi. Ma non mi aspetto otto Staff Pack, semmai un DLC o un'espansione in più. Mi pare comunque quasi un'accelerazione sul programma e il tweet francese torna prepotente. Se vi parlassimo del futuro del vostro gioco preferito, rilasciare più contenuti sembra essere un modo per completare il quattro e guardare al futuro. E se anche l'ipotesi si sta facendo sempre più debole, e la porticina di The Sims 5, io la tengo aperta. Non si sa mai. Eppure ragazzi, io vi dico che c'è qualcosa sotto che puzza e non poco. E non posso fare a meno di pensare alla misteriosa Nyx Experience. Ne abbiamo già parlato in altri video e ipotizzato l'unione fra The Sims 4 e The Sims Mobile. Se anche questa frase si riferisce ai giocatori PC, quindi la escluderei. Altre ipotesi azzardate è il multiplayer. Oppure ho pensato anche alla stessa frase più contenuti, anzi mi correggo, molti più contenuti. E non ho potuto fare a meno di pensare che non si parlasse di un DLC, ma ho pensato allo store di The Sims 3. Lì se ci pensate possiamo acquistare oggetti singoli, scenari, set di oggetti, parti del CAS. Chissà, resta l'incognita di questa nuova dinamica, che secondo i rumors stavolta non è nulla di ufficiale, potrebbe cambiare il modo di giocare. E che quindi associata ai tweet potrebbe aver senso. E non mi riferisco a un DLC, ma vedo questa cosa come un aggiornamento gratuito. Un po' come quello dei bebè per intenderci. Qualcosa che cambia qualche dinamica ed è disponibile a tutti, anche solo dal gioco base. Questo aspetto ragazzi è un mistero. Possiamo fare ipotesi, ma anche se i tweet portano nella direzione di una novità che va oltre una semplice espansione, e il silenzio di questi ultimi due mesi pare essere un'altra conferma, potrebbe anche essere stato un ritardo dovuto a questa nuova dinamica e le espansioni future potrebbero anche essere collegate a questa in qualche modo. Ecco perché non hanno rilasciato nulla o detto nulla. Dobbiamo solo aspettare e vedere se ci diranno qualcosa. Ma abbiamo dei dati certi alla mano. Quest'anno The Sims 4 PC avrà molti più contenuti. Che tradotto vuol dire che noi, inteso come community, io per prima abbiamo pensato alla cosa sbagliata. Non c'è stata nessuna morte di The Sims, ma anzi, probabilmente siamo di fronte alla sua rinascita. Come detto prima, non credo ci si riferisca a Staff Pack. Potremmo essere di fronte a due espansioni quest'anno e non ci sarebbe niente di strano. Nel 2011 e nel 2012 sono uscite ben tre espansioni su The Sims 3. Supernatural e stagioni a distanza di soli due mesi l'una dall'altra. Supernatural la settembre e stagioni a novembre. Quindi potrebbe essere. A questo punto c'è solo da chiedersi cosa dobbiamo aspettarci dalle nuove espansioni. E qui ragazzi, io ho formulato la mia personale teoria. E vedremo fra tre settimane se ho azzeccato qualcosa. Sembra essere quasi ormai una certezza, e anche io ne sono convinto. Ma come sarà questa espansione? Beh, potremmo essere di fronte a un nuovo mix di espansioni. Infatti, se guardiamo le espansioni di The Sims 4, vediamo che la prima, a lavoro, è un mix fra The Sims 3, Ambition e Funky Business di The Sims 2. La seconda espansione, usciamo insieme invece l'unione di molte espansioni. Hot Date di The Sims 1, Nightlife e Free Time del 2 e Late Night di The Sims 3. Vita in Città è invece un mix fra Late Night del 3 e Live with Friends del 2. Unica espansione che ha mantenuto la sua identità, tra virgolette, è Cani e Gatti, che implementa questi animali, ma introduce una dinamica completamente nuova, ovvero le cliniche. Ho ipotizzato quindi un The Sims 4 stagioni con un nuovo quartiere. Ecco, ho modificato Willow Creek per darvi una dimostrazione. Questo nuovo quartiere potrebbe avere quattro aree, una per ogni stagione, con degli spazi comuni, un po' come San Maishuno, dove troviamo i festival stagionali, riferimento a quelli di The Sims 3. Mi aspetta infatti le stagioni, i festival e le malattie, già presenti in gran parte come l'influenza, ma manca ad esempio il congelamento o l'ustione, per fare degli esempi. Quindi mi aspetto anche la bronzatura e il poter nuotare nel mare. E qui ragazzi ho ipotizzato che il mix della nuova espansione potrebbe essere fra stagioni e isola da sogno. E sarebbe coerente, la possibilità di fare immersioni si lega alle stagioni e perché no potrebbero tornare le sirene come creatura sovranaturale di questa espansione. Ma qui ragazzi ho trovato un grande limite. Se davvero ci ho azzeccato e Season è l'unione di queste due espansioni, immagino mancherà un pezzo fondamentale di isola da sogno. E però la soluzione è arrivata quasi subito. Su The Sims 4 abbiamo la possibilità di comprare una clinica, un negozio e un ristorante. Quindi perché non rilasciare un game pack successivo a Season dove possiamo comprare e gestire un resort? Ovviamente questo ragazzi è il mio pensiero. Non sappiamo ancora nulla di Season, ma volevo condividere con voi le mie teorie e ci divertiremo a capire insieme se ho indovinato qualcosa. Magari la prossima espansione sarà a tema di Vani con l'aggiunta dell'artigiano della qualità come creatura del DLC. Al momento sappiamo solo che quest'anno ci aspettano molti più contenuti e questo basta e avanza per tenerci incollati al gioco e speculare sullo sviluppo degli stessi. Fatemi sapere che ne pensate di questa dichiarazione. Siete contenti di sapere che arriveranno molti DLC quest'anno? Siete d'accordo sulla mia teoria di Season? E cosa vi aspettate dei nuovi DLC? Parliamone sotto nei commenti. Io al momento direi che ci possiamo fermare così con questo video. Spero che vi sia piaciuto e se così vi invito a mettere un mi piace, iscrivive al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi do l'appuntamento ai prossimi video e vi dico ciao a tutti!